di chi sarà quella ghianda? è mia! e perché non la mangi? la conservo per dopo meglio nasconderla e dove? prova a indovinare in una scatola? in una buca? hai sbagliato ancora la nasconderò in un albero quello così alto? non mi ho una scala per salire sull'albero ho quattro zampe ma non sono fatte così quelle anteriori sono corte e quelle posteriori sono più lunghe e molto più forti stop sono queste le mie ed ecco la mia pelliccia e la mia dov'è finita la mia? la tua cosa? la mia coda ho perso la mia coda hai una coda? sì e quando fa freddo la uso come una sciarpa oh so dov'è la mia coda sto arrivando trovata funziona anche da paracadute aspetta 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 sei un piccolo animale peloso con due piccole orecchie due dentoni affilati quattro zampe e la coda volta e nascondi le ghiande negli alberi lo so chi sei tu sei lo scogliattolo esatto ma come hai fatto a indovinare oh 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 Grazie.